ok bella a tutti ragazzi io sono Alexinio74 e oggi siamo qui e tornati in un nuovissimo video non lo so se questo video esce prima o dopo di un altro video quindi nell'altro video ho detto che se arrivano almeno 40 iscritti a fine mese vi do il codice della collezione torneo premium di Miri bellissimi torneo gabello c'è tutti i codici ho una nuova amicizia la procurement no 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 mai ascoltare l'amicizia la procurement no mai importazioni cosa c'è numero di telefono non lo so grazie grazie mille no no non c'è bisogno allora prima te lo dico andate dopo e adesso non lo so non lo so posto vediamo ci si scrive la bandana cosa esce tutto 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 esce tutto 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 Spero che non è di quelli che devi battere le persone perché io proprio non li so fare. Vincolo molto altissimi. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie. Ah, mi sto rompendo un braccio. Che strana questa canzone, troppo strana. No, come? L'ho battuto, sei brutto. Questo è quello che ti meriti. Ti ho battuto. Ti ho battuto. Ora finita. Ok. Bello, c'è lì, eh? Select. Where are you? Add. Bellissimo. Come, dai! Toccava a me. Via, non vuole non lo so fare. I-A-O-A-A-B-A-B-A C'era la mocca. Grazie a tutti. Mi sa che anche Nobile, oppure io. Non credo che sia hard questa. Lo sto battendo anche in delle canzoni che non conoscevo. Cioè, cosa la conoscevo? Però non l'avevo mai saputo fare. E ti ho battuto. Sono fortissimi. 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 L'iroление che Sto c'è la vovola mano nastotiche. Sono fortissimi. Sono fortissimi. Sono fortissimi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. T'aiuto! Se il gioco riesco a fare l'inizio con il punto bello. Ecco, questo è tutto bello. Ma che cos'è? Ma il lag non lo passa a me? Non mi sembra niente di questa canzone. Sembra che non fa sempre. Non ho battito. Non ho battito, non è niente. Guardate, mi alzerro perché se non mi ammazzo le dita. E mi stanno muorendo le dita. L'odine pure, perché lì c'è l'odine. Sembra che è molto sensato. Ragazzi, scrivetelo tutte. Bellissimo. 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 Ecco. Bellissimo. L'odine. Possiamo vedere. Questa è la cosa. Solo bellissimo. Solo bellissimo. mi devo allenare non lo so, c'è c'è un microfono a che capi è bello Beethoven a che capi è bello 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.